Obbligo, lasciatevi in bocca per 10 secondi Salve ragazzi, e oggi... Oggi che faremo, Vale? Schifo! Schifo! Oggi però stiamo facendo un video un po' diverso dal solito, perché? Noi faremo un bel Q&A Cioè fa schifo eh Molto Però almeno meno schifo degli altri video Prima domanda ce la fa Vittoria Manuli e chiede Come vi siete conosciuti? Mi salutate? Ciao Vittoria Allora, ciao Vittoria Allora ci siamo conosciuti a scuola e lo odiavo a morte Allora, no 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 no, poi diventa troppo lungo, ogni volta racconti la storia che ti ha tirato la terra in faccia Ma ha tirato la terra in faccia, solamente quello dovete sapere, era uno scorso Ve lo racconteremo in futuro Prossima domanda, Valerio dovrà fare un intro alla Luis Sal stile E Luis Sal no Io non capito Ciao, mi chiamo Luis Ciao Ho la figa nel culo cazzo Prossimo obbligo, ce lo fa Jasmine Sorsi E chiede, obbligo, chi legge questo commento doveva dare il suo telefono all'altro E l'altro dovrà scrivere qualcosa a una persona a caso Uo hai rotto il cazzo Oh c'hai Scrivo bene insomma, no? Ok, il cazzo Ti pare che sto dislessico Obbligo Baciatemi in bocca per 10 secondi Ci adoppiamo, mamma mia Prossima domanda ce la fa Beatrice Maccaferri e chiede Quanto siete stupidi, simpatici, belli? Allora, stupidi da 1 a 10? 4 Mila Simpatici, meno 3 Andate nei commenti e scrivete quanto siamo Stupidi, simpatici e belli Grazie Mo' salutate? Ciao Obbligo a volevo di stringere forte il culo di Dani Ci chiede Alessia Lauricella Mi farà malissimo Solo perché fa freddo e ti farebbe troppo male Ecco fatto Prossima domanda, dimmela Cioè, è un po' strana, eh? Vai Baciatevi e fate sesso Allora ragazzi, volevamo proporvi una cosa Se questo video arriva a 150 like Entro stasera Non ci arriviamo, eh? Però se ci arriva faremo vlogmas Però dovete capire se carichiamo ogni giorno la qualità del video Infatti Quindi commentate qua sotto se volete vlogmas Perché la qualità dei video ovviamente non sarà editato così bene O se volete tipo 3-2 video alla settimana 3 video a settimana però editati bene Grazie Spero che questo video vi sia piaciuto Arriviamo a 200 like per un prossimo video E iscrivetevi, attivate la campanella Bella Bella Ciao 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 Ciao